In Regione Abruzzo ci sono 4.000 richiedenti asilo, l'Aquila ne accoglie 1.000, numeri ufficiali snocciolati dal prefetto Cinzia Torraco che fa il punto sugli sbarchi. Sono tanti e le prefetture sono stressate a livello nazionale, questo incide anche a livello provinciale, ma c'è una risposta da parte delle istituzioni. Le istituzioni rispondono, certamente è innegabile il flusso degli sbarchi è aumentato considerevolmente anche a seguito delle precarie situazioni geopolitiche di alcuni stati africani, quindi questo ha chiaramente come impatto una ipersolecitazione del sistema dell'accoglienza a livello nazionale e chiaramente anche a livello locale le prefetture sono assolutamente impegnate a dare una risposta attenta ma sollecita, ma lo fa insieme a tutte le altre componenti del sistema paese e declinata a livello locale, quindi dagli amministratori locali al privato sociale. A livello provinciale com'è perfetta la situazione a livello appunto di presenze al di là del progetto? Allora le presenze in questo momento sono in tutto il territorio abruzzese, sono circa 4.000, l'Aquila ne ha mille, ne accoglie mille. In questo contesto si inserisce bene il progetto presentato in occasione della giornata europea delle fondazioni per l'inclusione dei richiedenti protezione internazionale per i migranti, in particolare condizione di vulnerabilità, progetto promosso da fondazione Carispac, ANCE ed ESECPT. È significativo perché spesso l'ANCE ha lamentato la mancanza di mano d'opera, in questo modo si dà una possibilità e si colma pure una lacuna nel mondo dell'edilizia. La quinta edizione del corso inizia domani, grazie a questo strumento sono stati formati 50 ragazzi, molti di loro sono stati inseriti nel mondo del lavoro. Il settore di là del resto ha bisogno di figure specializzate, in questo modo si garantisce lavoro a persone svantaggiate e al tempo spesso si aiutano le imprese a reperire le figure professionali necessarie. In Abruzzo abbiamo avuto delle presenze importanti nelle fondazioni, ma all'Aquila in modo particolare un rapporto con l'ANCE che ci ha dato la possibilità di mettere in piedi dei corsi di formazione attraverso i quali si include anche l'extracomunitario che arriva, che partecipa a questi corsi di formazione, impara e poi può essere avviato al lavoro.